Conosci il comando slash home? Presenti tutti quanti i server Minecraft? Ciao, io sono Rickaz e nei miei video ti insegno a creare un server come il mio. Il nome del plugin è EssentialSex. Non presenta soltanto lo slash home, ma anche tantissimi altri comandi, come ad esempio slash warp, slash banish, slash ban, slash pardon e tantissimi altri. Lo conoscevi? Beh, commenta e salva il video per non perderlo.